Stop alle pratiche sleali nelle filiere agroalimentari che strangolano gli agricoltori con prezzi al di sotto dei costi di produzione. Questo è il primo commento a caldo dei vertici di Coldiretti Sardegna dopo l'approvazione da parte del Senato della legge di delegazione europea. Obiettivo dell'intervento è quello di rendere più equa la distribuzione del valore lungo la filiera di produzione e di evitare che il sistema delle offerte promozionali di parte della grande distribuzione venga scaricato sulle imprese di produzione, già costrette a subire l'aumento dei costi dovuto alle attuali condizioni di mercato. Una battaglia in cui Coldiretti Sardegna ha sempre creduto e per vincere la quale ha lottato, come quando durante la protesta dei pastori del 2019 aveva denunciato gli industriali che pagavano latte sotto i costi di produzione, pratica peraltro vietata per legge. Grazie alla legge di delegazione europea le vendite sotto costo dovranno rispettare d'ora in poi una serie di parametri, a partire dal proporre un prezzo superiore ai costi medi di produzione elaborati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Altro strumento di tutela degli agricoltori nei confronti delle grandi catene distributive è l'intervento sui ritardi di pagamento delle forniture e sulle modifiche non concordate dei contratti, fino ai mancati pagamenti per i prodotti invenduti. Inoltre la legge fa sì che chi denuncia anomalie e vessazioni rimanga anonimo e viene inoltre data la possibilità alle associazioni di rappresentanza di presentare le denunce per conto dei propri soci. Insomma una vittoria che garantirà pari dignità a tutta la filiera, come ricorda il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba, valorizzando e favorendo la crescita del Made in Italy agroalimentare.